Presidente, in campagna abbiamo tre casi accertati di coronavirus, c'è da preoccuparsi? Per il momento non credo, perché innanzitutto non siamo di fronte a dei focolai. Bisogna che le persone comincino a capire la differenza tra un focolaio infettivo, come quelli che sostanzialmente si sono realizzati in Lombardia e in Veneto, che oltretutto negli ultimi giorni è stato anche dimostrato sia collegato al focolaio principale Lombardo, e i casi sporadici, che potranno comparire anche altri nei prossimi giorni, che sono comunque collegabili a quel tipo di diffusione. Dovremmo valutare nel tempo se questa situazione evolve verso un sistema di epidemia diffusa. Tutti i provvedimenti che si stanno facendo in questo momento, che appaiono restrittivi, che per paradosso realizzati per eccesso di prudenza, ma soprattutto per evitare proprio questa evoluzione, non possono essere poi quei provvedimenti a spaventare le persone. Quei provvedimenti dovrebbero servire per far sentire le persone più tranquille. A ogni singolo caso abbiamo avuto un incontro col Presidente De Luca, è stato analizzato su tutti i contatti, i contatti sono stati verificati. Fortunatamente uno dei tre casi non ha avuto praticamente contatto con nessuno. E quindi sostanzialmente si chiede in questa fase, soprattutto alle persone, di comportarsi attraverso un sistema civile e di senso di responsabilità verso la collettività. Se ci si reca in questi posti o si proviene da posti che possono essere considerati a rischio, in questo momento c'è un'ordinanza sia a livello della Presidenza del Consiglio, ma ripresa praticamente da tutti i governatori delle Regioni, non è stata messa anche quella della Regione Campania, in cui il soggetto di questo tipo deve, e sottolineo deve, ricordo che l'ordinanza può avere effetto sanzionatorio di tipo penale se non fosse rispettata, contattare il proprio medico di famiglia per segnalare nel dubbio e avere chiarimenti se il contatto che ha avuto con una persona o piuttosto con una località nell'ambito della sua mobilità sia di fatto a rischio. Il medico, se ritiene questa cosa a rischio, attiverà un medico di sanità pubblica che poi contatterà il paziente per valutare tutte le successive azioni da fare dopo che il medico avrà anche consigliato le azioni opportune per la tutela del nucleo familiare se questa persona ha dei conviventi. Presidente, diamo un ulteriore messaggio rispetto a quanto già ha detto lei. Se qualcuno pensa di essere infetto, non deve recarsi di sua spontanea volontà all'ospedale? Innanzitutto vi permetta di ringraziare i cittadini perché questo messaggio ormai lo stiamo dando da quando è partita la psicosi. Direi, ma possiamo testimoniare, io per primo sono un medico di famiglia che i nostri ambulatori sono sicuramente meno gravati dalla pressione dei pazienti. I pazienti stanno capendo che prima di venire in ambulatorio, prima di avere contatto con un medico, sia esso un medico di famiglia che è il primo contatto, il medico di guardia medica. Ora praticamente ci aspettano dei weekend dove il medico di famiglia non c'è, ma i colleghi di continuità assistenziale vanno trattati alla stessa maniera. Prima di recarsi presso il presidio, vi prego, chiamateli, fategli capire qual è la vostra condizione, verificate la possibilità con loro di accessi che siano protetti per voi e per gli altri. Questo significa riuscire a regolare la diffusione dell'infezione. Questa infezione non ha problemi legati alla gravità di impatto che può avere sul singolo individuo, soprattutto se quel singolo individuo è un soggetto giovane che non ha patologie, ma parliamo di soggetti statisticamente fino ai 50 anni. Questa patologia ha un problema importante quando andiamo sull'età superiori della vita. Ricordiamoci che noi italiani abbiamo una media di età molto più significativa di altri paesi al mondo e questo testimonia la nostra capacità di cura all'interno di questo paese, visto che siamo uno dei paesi più anziani in media al mondo. Però in questo momento rischiamo di pagare un bilancio grave in termini di soggetti con malattia importante o morti se questa diffusione epidemica andrà a impattare su fette di popolazioni più larghe nelle quali statisticamente noi italiani abbiamo delle percentuali di anziani molto molto superiori. Presidente, cosa ne pensa delle tende pre-triage istituite presso diversi ospedali della regione Campania? Credo che sia un'attività che va fatta, che sia stata fatta da subito all'interno di una regione dove non c'è un focolaio e un'ulteriore attenzione che il sistema pubblico sta avendo nella possibilità che la situazione evolva. In questo momento, più che stare a inseguire provvedimenti di emergenza che di volta in volta dobbiamo adattare, dobbiamo descrivere delle attività che siano già visibili da subito ma se ci sono variazioni siano già disponibili e attive per evitare il vero problema di questa infezione. Il vero problema di questa infezione è l'impatto sui servizi sanitari. Se noi leggiamo i dati in maniera chiara ci rendiamo conto, nella Lombardia che in questo momento diventa l'esempio visibile, che noi abbiamo 410 casi positivi, se non ricordo male, almeno fino a ieri sera come dato, ma poco significa di quando li pigliamo. Se però su 410 casi positivi in cui ci stanno i soggetti che sono positivi al tampone ma non hanno alcun sintomo e sono quasi la totalità, l'80%, poi c'è un'altra quota che è paucisintomatica, ovvero a pochi sintomi, si tratta di tosse, raffreddore, un po' di congiuntivite, sintomi simili, influenzali, che tende ad evolvere verso la guarigione nel periodo di evoluzione del virus. E poi abbiamo un gruppo di pazienti che ai noi sono un po' più importanti, ma sono 41. Stiamo parlando che in Lombardia c'è un 10% di pazienti, tutti anziani, con patologie croniche precedenti, con fatti oncologici o quant'altro, che sono quelli più deboli, che sono in terapia intensiva. Ci dobbiamo porre a quel punto il problema di quanti posti letto in terapia intensiva noi possiamo disporre. Diamo un messaggio positivo anche a chi ci segue, perché ci sono dei casi di guarigione, giusto? Assolutamente sì, credo che siamo di fronte ai primi guariti e che non vediamo subito in termini numerici importanti, perché praticamente li stiamo seguendo da una settimana. Noi siamo a sei giorni dall'inizio, diciamo, di questa diffusione. Ed è chiaro che quelli che sono stati identificati, se io prendo l'influenza, non guarisco completamente prima di una settimana, dieci giorni. E' chiaro che settimana prossima noi vedremo crescere piano piano, in maniera esponenziale, anche il numero dei guariti, dando un messaggio probabilmente positivo e tranquillizzante anche a tutti i cittadini italiani che in questo momento sono spaventati di una cosa che non conoscono. È possibile immaginare che nei prossimi mesi, con l'innalzamento delle temperature per l'arrivo della primavera estate, si risolva tutto? Guardi, questo è inimmaginabile, nel senso che noi non abbiamo abbastanza dati. Normalmente i coronavirus sono virus stagionali e quindi si può presupporre che questo virus possa avere un andamento di quel tipo, ma non ne possiamo essere certi perché stiamo parlando di un virus nuovo che per la prima volta si affaccia nel mondo e quindi in qualche modo lo dobbiamo studiare anche rispetto ai modelli comportamentali di flussi e riflussi. Presidente, bisogna dircelo a partire da casa nostra, l'Italia non è lo stato un tore d'Europa perché nuovi casi si stanno registrando in Svizzera, in Francia, in Nord Europa. Questo era prevedibile. L'Italia, come al solito, fa rumore. Un po' mi permetta nella sintesi interna l'atteggiamento che succede quando una cosa succede a Napoli rispetto a tutto il resto d'Italia e ne ho di esperienza. Se succede a Napoli quella cosa diventa eclatante, se succede in un'altra parte di questo paese si riduce. Lo stesso sta succedendo. Gli italiani sono i napoletani del mondo a questo punto. Mi permetta questo passaggio che forse porterà tutti gli altri italiani a capire che forse è arrivato il momento di evitare queste visioni pregiudiziali perché se in un momento ci fanno piacere per farci sentire diversi in questo momento ci danneggiano. È chiaro che nell'ultimo periodo stanno venendo fuori dei dati interessanti ovvero il fatto che negli altri paesi per esempio vengono dati i numeri solo dei positivi controllati ovvero il soggetto si fa il tampone naso faringeo e viene dichiarato positivo. In Italia vengono immediatamente in maniera trasparente contabilizzati. Il protocollo dell'OMS prevede invece che debbano essere verificati da un laboratorio autorizzato e certificato che in Italia è tenuto dall'Istituto Superiore di Sanità e questo vale per tutti i paesi. Mentre noi li stiamo dichiarando tutti gli altri paesi stanno dichiarando solo quelli controllati e verificati. Dall'altro lato va detto che fino a oggi i positivi che sono stati determinati a livello periferico nella stragrandissima maggioranza sono stati confermati successivamente. Non può essere l'azione di trasparenza e di legittimità e di intervento immediato del paese Italia la colpa del paese Italia. Secondo me è molto più colpevole un paese che per non far apparire le cose alla fine le minimizza e sostanzialmente non fa comprendere ai propri cittadini che con pochi comportamenti si può evitare il dramma. Presidente, il dialogo dell'Ordine dei Medici è aperto chiaramente con la Regione ma lei è stato anche al Ministero della Sanità. Io per una coincidenza di ruoli in rappresentanza anche della medicina di famiglia che è in prima linea ringrazio tutti i colleghi che stanno facendo il loro dovere rispondendo a telefono ai colleghi, ai pazienti, tranquillizzandoli e dandogli informazioni oltre al fatto che sto cercando di farlo anch'io attraverso i media e ringrazio anche l'emittente per permettermelo perché è il modo di arrivare più rapidamente e a sostegno anche di quei colleghi in modo che ricevano meno telefonate mi permetta questa speculazione che può apparire spicciola ma il lavoro che i media stanno facendo in questo momento se è un lavoro di informazione e non di speculazione sulle paure credo che abbia anche quello in suo valore. Il dato principale, io per questo mio ruolo sono stato già più volte al Ministero l'ultima è stata martedì scorso nel quale praticamente abbiamo affrontato alcuni temi che appaiono banali come quello della certificazione di malattia per i pazienti come quello della ripetizione delle ricette se noi diciamo da un lato che cerchiamo di far venire il meno possibile i cittadini e i nostri ambulatori la tecnologia oggi ci dovrebbe permettere di risolvere alcuni problemi per cui mi pare incredibile che per un compito amministrativo come può essere quello di un certificato di malattia su un soggetto che per esempio è stato messo in quarantena o in isolamento per questa infezione io debba recarmi a domicilio perché la legge prevede questo oltretutto rischiando di contaminarmi anch'io e di contaminare a mia volta altri pazienti. Presidente, per chiudere un consiglio ai cittadini e ai suoi colleghi medici che vivono e lavorano in territori circoscritti come le isole. Beh, le isole praticamente mi permetto in qualche modo perché sono fortemente legato alle isole mia mamma è nata a Ischia e quindi in qualche modo devo un'attenzione particolare innanzitutto gli isolani, lo dice lo stesso termine sono soggetti che sanno che cosa significa l'isolamento ed è chiaro che questo isolamento che loro vivono in un territorio largo in questa fase anche all'interno di quei territori va determinata la possibilità di sistemi che li proteggano rispetto all'eventualità di un'infezione che si dilaghi all'interno di un ambito che oltretutto non ha un'offerta di cure sempre adeguata alle necessità che potrebbero creare questo tipo nei casi gravi seppur pochi. Dall'altra parte però bisogna anche riflettere su alcune azioni politiche perché quando si dice chiudo l'accesso all'isola non si riflette che domani qualcun altro potrebbe dire chiudo l'uscita dall'isola. L'isola è il soggetto più, come dire, non c'è bisogno dei carabinieri intorno come è stato fatto a Vaux e nella bassa Lodigiana quindi ai cittadini delle isole gli darei un messaggio cercate di ragionare in termini di attenzione cerchiamo di ragionare per esempio semplicemente raccogliendo delle dichiarazioni al porto per capire se quelle persone che arrivano arrivano da zone a rischio perché oggi c'è un'ordinanza che obbliga queste persone a dichiararlo ma cerchiamo dall'altro lato di continuare a vivere una normalità anche perché quell'isola vive della relazione con le altre popolazioni è sempre stata attenta alla capacità della relazione con le altre popolazioni altrimenti il rischio è che la psicosi crei talmente danni che forse non ci ammaliamo ma ci moriamo di fame potrei dire.